Devo sentire più volte a fior di avvocati, sostenere, ma è stato un acquisto in buona fede. Non è vero, non è vero, non è vero, lo sanno tutti. C'era anche il professor Berardi questa mattina in tribunale a Pesaro, dove è ripartito il processo a porte aperte sul destino dell'Isippo, il celebre bronzo di inestimabile valore storico e artistico, rinvenuto nel mare adriatico negli anni 60 da pescatori fanesi e poi venduto, svincolando le leggi italiane, al Gatti Museum di Malibu. Una persona che da anni si batte per il rientro in Italia della statua è proprio Alberto Berardi, che insieme all'Associazione Le Cento Città aveva presentato un esposto dando il via alla procedura giudiziaria. Purtroppo però le cose procedono lentamente. Sembra che qualcosa si sia rimesso in moto e questa mattina abbiamo avuto la certezza che il giudice ha fatto un programma cronologicamente definito e fino a dicembre abbiamo l'impegno una volta al mese. Questa mattina l'avvocato Gaito, per conto del Gatti Museum, ha sollevato eccezioni a raffica sulla procedibilità, sulla costituzione di parte civile dell'Associazione Cento Città, sulla parte civile dell'avvocatura dello Stato, ricordando come il museo fosse in perfetta buona fede al momento dell'acquisto. Di tutt'altra opinione è lo storico Berardi. Non erano in buona fede quando l'hanno comprata, perché dicono ma noi eravamo in buona fede, non sapevamo. No, no, lo tenevi nascosto perché? L'avvocato ha inoltre ricordato che lo Stato italiano non ha mai reclamato l'opera per almeno 30 anni. Il PM Silvia Cecchi invece ha chiesto di poter ascoltare testimoni e persone che hanno avuto un ruolo o erano a conoscenza del destino dell'Esippo. Faccio un gesto del Gatti Museum che tra l'altro l'ha acquistato in contrasto con il stesso volere del suo proprietario. È un bene dello Stato italiano attualmente in California ed è arrivato in California senza che nessuno avesse dato l'autorizzazione. Avanti così, ma sarebbe ancora più bello se il gesto fosse spontaneo e senza andare ancora in tribunale dove peraltro il Gatti ha una lunga esperienza. Il giudice Gasparini ha aggiornato l'udienza al prossimo 18 maggio. Non deve comandare né la spada né il denaro, ma la giustizia.